Presentata questa mattina a San Domenico Maggiore, la mostra Cuori che aspettano di essere considerati, una raccolta di disegni tratti dall'omonimo libro di Maria Rosaria Costanza che raccontano il disagio infantile. Nei lavori dei bambini le storie di sofferenze altrimenti mute, storie di genitori separati, di solitudini e di violenze, ma anche di sogni e di speranze. In questi due quadri ci sono due cuori, un cuore è rosso ed è dedicato a I love you al papà e un altro cuore invece è tutto scarabbiocchiato nell'interno. Questo vuol dire che il piccolo artista o il piccolo artista ha voluto rappresentare col disegno l'empatia, l'empatia ad uno in particolare dei suoi genitori. Una casa che non ha tetto né fumino né finestre né porta è una scatola, una scatola che contiene solamente una sedia e mi ha raccontato di essere lui stesso una sedia vuota. L'artista ha rappresentato la sua speranza, le fate, i sogni, la sua preghiera di ascolto, di ascolto di noi adulti. La mostra, inclusa fra le iniziative dell'estate a Napoli, sarà aperta al pubblico fino al 7 settembre. Questa è l'estate bambina che abbiamo dedicato a questo evento del tutto speciale che sono i 700 anni dalla fondazione dell'area al casa dell'Annunziata, quella ruota degli esposti che ci parla della condizione dell'infanzia nel passato ma direi soprattutto anche nell'attualità perché questa mostra ci parla del disagio e della solitudine dei bambini, di questi disegni che con una eloquenza veramente straordinaria ci devono disporre ad ascoltare quei cuori che debbono essere considerati. Io penso che sia una mostra bellissima. Se sappiamo di nuovo ascoltare, soprattutto ascoltare il disagio dei bambini, allora l'umanità non è persa. Ogni generazione di bambini offre all'umanità una nuova possibilità di ricostruire il mondo dalle proprie rovine. Questo è stato scritto nel 1928 da Jeb ed è così.